Sempre più frequentemente negli ultimi anni escono indagini, inchieste, studi relativi all'attività giornalistica in Italia, studi nei quali si evidenzia il ruolo del giornalismo in Italia, ma anche indagini, la più famosa quella relativa alla libertà di stampa a livello europeo e quindi anche italiano. Insomma diciamo che il giornalismo è oggetto di attenzioni mediatiche dagli stessi giornalisti ma anche dai sociologi, anche dagli economisti, insomma il ruolo dell'informazione, il ruolo del giornalismo, sono tutti aspetti importanti. Noi dimentichiamo però un aspetto secondo me fondamentale, e cioè che purtroppo viviamo in un paese in cui il popolo mediamente non ha né considerazione né rispetto per l'attività giornalistica, né ne conosce gli scopi e la funzione fondamentale che esso porta avanti. Io lavoro come giornalista televisivo, seguo il territorio, seguo la mia regione, i comuni, le province, gli enti, insomma incontro ogni giorno tantissime realtà, tantissime persone, ho fatto una marea di chilometri, faccio tutti i giorni molta strada per questo lavoro che amo tantissimo, e sono arrivato all'idea dopo diversi anni di attività che l'italiano medio per l'appunto non conosca veramente l'attività del giornalista, la giudica però molto negativamente e soprattutto non si rende conto di quanto il giornalismo è fondamentale in uno stato che almeno sulla carta è democratico e l'italia dovrebbe essere in teoria una repubblica democratica. Il giornalismo, un buon giornalismo, amo sempre dire io, è indice di una democrazia che funziona. Però l'italiano medio, questo è il punto, questa cosa non la sa, non ci pensa mai, non ci si pensa. Io spesso incontro persone e quando mi annuncio di coloro che mi occupo di giornalismo si credono anche simpatici e mi dicono ah sì voi giornalai. L'opinione media in Italia del giornalismo e dei giornalisti è molto negativa perché giornalista è diventato sinonimo sì di giornalai o storpiando il termine ma in generale di falsario, cioè il giornalista è colui che racconta fake news, cioè colui che non dice la verità. Questo purtroppo è un pensiero abbastanza sviluppato in questa fase storica e a me dispiace incontrare tanta gente che ha un'opinione di questo tipo. A questi soggetti io rispondo quello che vi ho appena detto, quindi l'importanza del giornalismo. Cerco anche di spiegare cosa fa il giornalista perché magari uno potrebbe non saperlo, come uno che non è addetto ai lavori può non sapere cosa fa un entomologo, un botanico, un cardiologo, insomma magari abbiamo un'idea generica della professione ma non sappiamo nel dettaglio ciò di cui si occupa. Ebbene io credo che molti non sappiano che cosa fa il giornalista. Il giornalista è colui che cerca la verità. A me piace descrivere così l'attività del giornalista. È colui che cerca nei vari ambiti, quindi nella cronaca, nella cultura, nello sport, nell'economia, nella politica, a livello europeo e internazionale, cerca dei fatti, delle cose che avvengono, le seleziona secondo criteri, noi in gergo diciamo di notiziabilità e le diffonde alle persone, alla gente, al popolo per far sapere quello che avviene. In questo senso il giornalismo è un'attività a mio avviso profondamente filosofica perché il giornalista, similmente al filosofo, sto parlando del giornalista serio, rigoroso, che fa bene il suo lavoro, indaga per trovare la verità. Certo una verità più legata alla condizione materiale, terrestre, non cerca la verità che cercava Socrate, che cercava Platone, che hanno indagato i grandi mistici. Cerca verità parziali, similmente in questo allo scienziato, verità storiche, verità legata alla cronaca, però il giornalista cerca la verità e la diffonde. Che succede tuttavia? Che per colpa di alcuni colleghi e colleghe poco seri e serie è successo che la gente ha perso fiducia nel giornalismo. Ci sono stati casi molto tristi, molto spiacevoli, di persone che si professano, che si professavano, ma alcuni lo fanno tuttora, giornalisti, però hanno fatto delle cose molto brutte, quindi implicati in questioni di pubblicità, di marketing, o magari che prendevano dei soldi per dire una certa cosa o per non dire un'altra cosa. È chiaro che tutto questo ha creato un'immagine non bella del giornalismo, ma vi invito a riflettere sul fatto che ci sono medici disonesti, ci sono imprenditori altrettanto disonesti, ci sono dei impiegati incompetenti, ma non sono tutti uguali. Quindi la prima cosa evitiamo facili ma anche sterili generalizzazioni. Seconda cosa informiamoci. Che fa il giornalista? Il giornalista racconta le notizie, spiega il mondo, analizza i fenomeni globali. Ci sono più tipi di giornalismo e di giornalisti, quindi mica tutti fanno le stesse cose. C'è un giornalismo sportivo, un giornalismo culturale, un giornalismo economico. Ci sono diversi tipi, c'è un giornalismo legato al gossip, la cosiddetta cronaca rosa. Ciascuno nel proprio settore dovrebbe raccontare la verità, dovrebbe aiutare le persone a capire il mondo. Dal giornalista che ti racconta l'incidente lungo la strada statale, incidente fra due auto, ti ricostruisce la dinamica, a quello che ti spiega che cos'è lo spread, passando per l'esperto di esteri che cerca di contestualizzare il conflitto fra Russia e Ucraina. Quindi lo ricostruisce, spiega la dinamica. Il giornalista è tra il filosofo, il professore e il magistrato. Il filosofo cerca la verità e lo fa anche il giornalista. Il magistrato è colui che indaga, è colui che porta avanti delle indagini per arrivare a un certo esito, cioè ho preso queste prove e quindi emetto una sentenza. Però il magistrato indaga, il magistrato fa le indagini, fa le inchieste. L'insegnante è colui che trasmette il sapere. Mi piace pensare così il giornalismo. Il filosofo, l'insegnante e il magistrato. Il giornalista è un po' un crocevia di saperi. Però ripeto, il popolo mediamente non è abituato a questo e non vuol saperne. Perché quando incontrano me e altri colleghi, voi siete giornalai, voi siete venditori di fumo, di sciocchezze, siete dei falsari. Invece dovreste riflettere brevemente sul fatto che gli stati dove vigono tuttora dittature sono quelli nei quali l'attività giornalistica non è libera. Quindi avere un giornalismo libero e avere giornalisti che ci raccontano quello che succede è veramente indice che lo Stato funziona e che c'è vera democrazia. Quindi è importante che ci sia un giornalismo attivo che funziona. E poi, altro aspetto, e mi avvio alla conclusione, è il fatto che l'italiano medio è abbastanza omertoso. Questo è un grande problema. A me capita spesso di incontrare tante persone per diversi servizi televisivi, per diversi servizi giornalistici. La maggior parte delle persone non vuol parlare, non vuol rispondere alle domande, non vuol apparire. Quindi il problema qual è? Che non si conosce l'attività del giornalista, non si conosce il lavoro del giornalista e di conseguenza non si dà il giusto valore al giornalista. Perché se viene lì un giornalista ti vuole intervistare, perché devi rifiutarti? Perché non devi parlare? Perché devi scappare? Io e tanti colleghi che ho in tutta Italia, non solo, tutti i giorni ci confrontiamo col fatto che facciamo difficoltà a interloquire con le persone perché non vogliono parlare. E badate bene, non è un discorso solo di timidezza. Molti trovano la scusa, sono timida davanti alla telecamera, davanti al giornalista, meglio che non parli. Ma non è timidezza, in molti casi non si attribuisce valore al giornalismo. L'altro giorno stavo realizzando un servizio sulla Bolkestein, questa direttiva europea che riguarda principalmente i balneari, se ne sta parlando da molto tempo, una mi ha detto che parla a fare? Tanto mica se parlo a te cambia qualcosa, tanto mica se dico questa cosa a te allora faranno una legge e toglieranno la Bolkestein. Eccola l'idea, il giornalismo è inutile, non mi serve. Magari qualcuno sa quello che facciamo, però in fin dei conti pensano che è inutile. Questo perché, va detto, il giornalismo ha subito profonde trasformazioni soprattutto con l'avvento della rete, in particolar modo dei social network, ma il giornalismo non ha più quella presa, quel potere. Un tempo appunto era il quarto potere, c'è anche un ottimo film di Orson Welles, il quarto potere. Quindi si temeva l'informazione perché il giornalista aveva la capacità di indirizzare l'opinione pubblica, perché aveva un minimo di credibilità. L'hanno detto in tv, oppure l'ho letto sul giornale, era sinonimo di attendibilità. Il giornalista era simile quasi a un pubblico ufficiale. Oggi è al contrario. Proprio perché c'è scritto nei giornali, proprio perché l'hanno detto in tv, non è vero. Ma non è sempre così, ve l'assicuro. Il giornalismo è pieno di gente appassionata, spesso sottopagata, sfruttata, precaria purtroppo, ma sono persone appassionate, valide. Certo, sta a voi, sta a te che ascolti questo video, sta a ciascuno di noi studiare, informarsi, selezionare. Quando leggo un articolo non lo prendo a prescindere come oro colato. Se l'argomento mi interessa, lo ritengo utile, vado ad approfondire, vado a capire, cerco di ascoltare anche altre campane. Ho letto l'articolo su quel conflitto fra quei due stati sul Corriere della Sera, lo leggerò anche sulla stampa, sul Messaggero, su Repubblica. Cerco di farmi delle idee plurali. Questo aspetta voi. Cioè il giornalista, il compito, il suo dovere è quello di raccontare il mondo. È una missione in questo senso, raccontare la realtà, ma non potete pensare che voi ve ne state lì, arriva la pappa pronta, fine. Voi dovete rielaborare, cercare di comprendere, di approfondire, anche per smascherare eventuali mascalzoni, che, ripeto, ci sono anche nel mio settore, anche nel giornalismo. Ma voi conoscete un settore professionale in cui tutti i soggetti che lo popolano sono onesti, corretti, persone per bene, moralmente rette? È chiaro che ci sarà il faravutto, il giornalista che non si documenta, che non studia, che dice anche delle inesattezze o il cosiddetto venduto, cioè il corrotto. Certo, ma non è la categoria intera ad essere così. Tenetelo sempre a mente. Quando incontrate un collega, una collega, tenete a mente che ci sono giornalisti che vanno in giro col giubbotto antiproiettile, che vanno in giro con i caschi. Ci sono giornalisti che sono morti, morte ragazze, donne, all'estero, ma in passato anche in Italia. Andatevi a vedere i giornalisti uccisi dalla mafia, soprattutto in Calabria, in Sicilia. Ce ne sono tanti, cioè il giornalismo è un lavoro bellissimo di chi cerca la verità, di chi indaga e di chi ha il preciso compito, il preciso dovere, anche deontologico, di raccontare quello che ha visto. Tant'è che noi giornalisti, deontologicamente, pensate, abbiamo il segreto professionale sulla fonte della notizia, ma l'obbligo di divulgare la notizia. Cioè, se Tizio mi racconta un fatto, io ho l'obbligo di non dire che me l'ha detto Tizio, ma ho al contempo l'obbligo di raccontarlo quel fatto. È una professione pubblica. Il giornalista ha un ruolo pubblico. Racconta il mondo, racconta le dinamiche, racconta la propria regione, a seconda di dove lavora, della tv, carta stampata, radio, tv locale, tv nazionale. È uno che racconta la realtà. Quindi abbiate più cura, più rispetto per l'attività del giornalismo e del giornalista. Cioè, capite l'importanza di questa professione. Perché se vedrete in giro, se vedremo sempre meno giornalisti, questo significherà ulteriori restrizioni della libertà di stampa. Si parla in questo periodo della possibilità di introdurre il carcere per i giornalisti. A me tutto questo spaventa. Tutto questo spaventa e preoccupa. Perché ogni forma di dittatura e ogni forma di regime parte sempre, sempre, dalla repressione della libertà di espressione. E la libertà di espressione è il baluardo della democrazia, ma lo è anche di chi come me esercita il lavoro giornalistico. E poi concludo, quindi invitandovi a guardare con occhi nuovi il lavoro fondamentale del giornalismo. Vi invito sempre a leggere, a studiare, a documentarvi. Perché non basta leggere l'articolo, guardare il servizio in tv, dovete conoscere i fatti, dovete rielaborarli voi. E quando avete di fronte un giornalista, parlategli. Cioè non ha la peste, non ha la lebbra, non vi contagia chissà che tipo di morbo, di virus. Io spesso, quando vado in giro a intervistare le persone, ma ripeto, non solo io, tanti colleghi e colleghe, faccio difficoltà. Perché nessuno vuol parlare. Meglio che non parlo. Magari quello ha un bar, ha un locale. Meglio che non mi esprimo. Poi, sai, magari piccolo paesino, mille abitanti, conosco il sindaco. C'è troppa omertà. C'è gente che è morta per esprimere la propria opinione in tempo di guerra e non solo, nei regimi, tuttora, mentre sto registrando questo video. C'è gente che sta morendo perché è condannata a morte, perché è omosessuale, perché non crede in una certa religione, perché si è espressa contro il capo di stato di turno. Allora voi che vivete in uno stato almeno, in parte, un po' democratico, in cui almeno un po' ancora, un barlume di libertà di espressione c'è. Usatela. I nostri nonni, i nostri, i vostri nonni, bisnonni, sono morti spesso per ottenere non solo la bellissima Costituzione che abbiamo, troppo spesso disattesa e poco conosciuta, ma per ottenere proprio la libertà, per ottenere anche il giornalismo, anche l'informazione libera, che non è solo dovere informativo, ma è anche libertà di critica. Mia, ma di tutti. Tutti abbiamo libertà di espressione. Usiamola. E quando arriviamo lì, con la telecamera, col microfono, non scappate. Non mi dite, come mi hanno detto a me, devo andare a mangiare perché ho fame. Perché la libertà di espressione è molto più importante del piatto di pasta, che lo mangiate comunque, anziché a mezzogiorno e mezza, a mezzogiorno e quaranta. Se il giornalista vi chiede un'opinione su una decisione che ha preso il vostro sindaco, su un fatto avvenuto nel vostro comune, esprimetevi. Dite la vostra. non rinunciate a parlare, perché c'è gente morta per esprimersi, per esprimere la propria opinione. E uscite fuori da quel provincialismo. Sì, ma quella cosa è successa lì, io abito là. Sì, ma questa notizia riguarda il comune confinante al mio, a me non mi interessa, il medico lo stanno togliendo a quel comune, mica a me. Ok? Morto sul lavoro. E vabbè, mica lavorava con me, mica lo conoscevo. Morto ragazzo nell'incidente stradale. Intervista, ma chi se ne frega, mica è mio amico, mio parente. Uscite dal provincialismo, dal riduzionismo e da questa omertà tipica purtroppo ancora oggi di molti italiani. Esprimetevi, parlate con i giornalisti. Se noi giornalisti avessimo segnalazioni da parte di tutti i cittadini, vivremmo in uno stato allora sì veramente democratico, dove ognuno esprime la propria opinione, dove ognuno parla, dove nessuno si sottrae a dire la propria opinione, a parlare, memori e al contempo rispettosi di quanti hanno perso la vita per dirla quella opinione. Oggi noi veniamo lì, gratuitamente, vi mettiamo il microfono davanti alla telecamera, di quello che pensi. Eh ma tanto che cambia, dicono molte persone quando le incontro per strada. Tu intanto di la tua. Potrai dire che tu c'eri, che tu hai detto no, che tu non hai chinato la testa. Siate cittadini consapevoli e siatelo anche collaborando con i giornalisti. Collaborate con i giornalisti per raccontare la vita, per raccontare il mondo e la storia. Perché il giornalista racconta i fatti, ma per poter essere raccontati i fatti hanno bisogno di persone, ripeto, consapevoli, persone che si esprimono, non persone che scappano, persone omertose, persone timide, persone che inventano mille scuse per non dire la loro. Dite la vostra opinione, parlate con i giornalisti, chiamateli i giornalisti. C'è un problema? Chiamateli e parlate con loro. questo è l'invito che volevo farvi in questo video. Aspetto i vostri commenti, scrivetemi che cosa ne pensate voi, come vivete voi il giornalismo, se voi parlate con i giornalisti, se vanno mai intervistato. Apriamo un dibattito. Aspetto i vostri commenti, le vostre riflessioni. Potete seguirmi anche su Facebook, su Instagram, vi aspetto anche lì. Qua sotto c'è il tasto con scritto iscriviti e quindi iscrivetevi, iscrivetevi al mio canale YouTube Daniele Andreani per rimanere aggiornati sugli altri video, le altre riflessioni. Vi aspetto anche negli altri video. Grazie per l'ascolto. Un saluto da Daniele Andreani. Grazie mille, viva l'informazione, viva il giornalismo.